spot arteritivo cimento c'è sempre il capernet dell'azienda sabatini siamo ad atina e non può mancare sulla nostra enoteca sempre questo vino questo cabernet di atina che è fantastico un'altra interpretazione per questo cabernet di atina doc cimento cabernet di atina a 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